Forza ragazzi, eccoci qua, Mr. Viola vi dà il benvenuto a un video dedicato alla conferenza stampa di Rocco Commisso, il nostro presidente. Che giornatina ragazzi, o meglio che mattinata, Rocco un fiume in piena come titolo alla mia copertina. Ragazzi, Rocco ha parlato di tutto, ma non ha detto niente. Non voglio far polemica, sigla, e andiamo ad analizzare tutta la conferenza stampa di Rocco Commisso. Sigla. Forza viola, Forza viola, Forza viola, Forza viola, Forza viola, noi ti fiamo solo e sempre Fiorentina. Forza viola, Forza viola, Forza viola, Forza viola, Forza viola. Ci rientrati ragazzi, allora, prima di andare ad analizzare le parole di Rocco Commisso in conferenza stampa, che dice che mette in vendita la Fiorentina, dice tutto, non dice niente se la prende a spalatratta contro i giornalisti, vi chiedo come sempre di iscrivervi al mio canale YouTube, Mr. Viola, attivate la campanella per non perdere tutti i miei contenuti, bombardate di like questo video e tutti gli altri miei video che faranno parte del mio canale per sostenerlo. Ragazzi, come sempre, condividerlo con tutti i vostri amici e tifosi di Ola, commentatelo ragazzi con le vostre sensazioni, che va lasciato oggi la conferenza stampa di Rocco Commisso, se siete d'accordo o meno su quello che ha detto, e come sempre ragazzi vi lascio il link in descrizione dei miei shop online e degli amici di occhiacalcio.com, seguitemi su Instagram e Facebook. Allora, banda le ciance, oggi ci aspettavamo qualche risposta sul calcio, sul progetto Viola, non è arrivata questa risposta, anzi, è arrivata una grossa polemica, una polemica molto simile già fatta in passato da Rocco Commisso contro il giornalismo in generale italiano, però diciamo analizziamo un attimino. Allora, si indice la conferenza stampa alle 11 del mattino, arriva Rocco, tutti noi ci aspettiamo le risposte sul nuovo mister, sul direttore sportivo, magari sullo stadio, sul Viola Park, sulla squadra, su Blauvic, su Ribery, su chi va, su chi resta. Allora, da una parte posso anche capire che mancano due partite, finiamo la stagione e poi parliamo del futuro. Ma allora perché dire di parlare dopo Cagliari, cioè quando praticamente ti aspettavi o no la salvezza? Cioè a questo punto dici, a fine campionato parlerò, no? Questo è un po' il mio modo di vedere. Rocco ha voluto fare questa conferenza stampa, forse a salvezza acquisita, per togliersi qualche sassonio della scarpa. Allora, su Iachini ha detto che bisognerebbe fargli una statua, perché ci ha salvato per il secondo anno di consecutivo, io su questo sono d'accordo con Rocco, secondo me Iachini ha fatto un grande lavoro, però allo stesso tempo non ha parlato di Cesare Prandelli. Cioè non ha voluto dividere la salvezza di quest'anno anche con Cesare, o meglio, poteva anche dire ringraziamo Cesare per il lavoro svolto e ha una statua a Iachini. Non l'ha detto. Quindi, attenzione, che forse qualche maretta con Cesare Prandelli, che vi ricordate qualche uscita particolare, non si capisce dove vuole arrivare la società, senza un progetto ambizioso, i giocatori sono un po' spaesati, vi ricordate un po' di cose che io disi, attenzione, Prandelli comincia ad andare un po' contro la società? Secondo me tante cosine non sono andate come Prandelli aveva il desiderio che andassero, o che Rocco aveva il desiderio che andassero. Non si sono trovati. Forse sul lato umano sì, ma sul lato calcistico no. La cosa positiva è che Rocco comunque ha detto, sicuramente sono stati fatti degli errori, di cui io a fine campionato parlerò con la mia dirigenza. Però attualmente non vi so dire né chi va, né chi resta, né chi verrà. Cioè, ha lasciato un po' tutto sospeso nell'aria. A domanda su che allenatore vuole, ha detto, voglio un allenatore vincente. Cioè, quello che vorrebbero un po' tutti i presidenti e tutti i tifosi. Sul fatto di Vlaovic, ha detto, con Vlaovic, vabbè ha scherzato sul fatto del palleggio, ha detto, con Vlaovic c'è la mia idea di trattenerlo, perché vogliamo costruire su questo ragazzo, quando tante pressioni anche da parte dei tifosi, compreso il sottoscritto, perché io Vlaovic lo dissi anche l'anno scorso, secondo me era giusto mandarlo in presto per farsi le ossa, lui ha sempre detto, no, no, Vlaovic rimane, Vlaovic l'ha, e alla fine hanno avuto ragione loro. Io ho già fatto mea culpa settimane, settimane, ma settimane fa, ma parecchie settimane fa, perché l'unico stolto, l'unico ignorante è quello che non riconosce le proprie colpe o i propri errori e chiede scusa. Io su Vlaovic mi sono sbagliato. Quindi, su Frank Ribé non si è capito cosa si vuole fare. L'ha detto, ancora non abbiamo capito cosa vuole fare con Frank, va bene, ci sta, ci sederemo a fine campionato e capiremo. Sembra però che ci sia un'apertura verso il calciatore al sia a Firenze, che Firenze possa rinnovargli il contratto, sicuramente con un ingaggio, se non di mezzato, molto di più, però anche qui è da capire. Per quanto riguarda poi la parte stadio, io parlo di tutto quello che può interessare o meno al tifoso e poi parliamo del giornalismo. Ripeto, la mia non è una polemica, io sto soltanto ripetendo quello che ho sentito oggi in conferenza stampa e, diciamo, la mia opinione. Sullo stadio ha detto, incontrerò Nardella, parleremo, cercherò di capire i tempi. Con i miei soldi nel 2019, sì, mi lasciavano fare a quest'ora, avevamo già il 50% dei lavori andati. Sul Viola Park si aspetta che, diciamo, il momento del blocco abbiano comunque capito di lasciarlo continuare i lavori, perché onestamente è un qualcosa che diventerà molto grande anche a livello di impatto ecologico e ambientale, perché verranno piantate una valanga di alberi. E poi sarà importante comunque anche per il calcio, non solo fiorentino, ma in calcio in generale italiano, di far capire che si può crescere all'interno dell'Italia sotto il punto di vista impianti sportivi. Sullo stadio ha detto, vedremo, perché con i soldi di Franceschini si capirà quando iniziano, quando si finiranno, ma soprattutto come verrà tutto fatto. Perché non è che poi dice Rocco, e ne è dato un po' fastidio Rocco, non è interessato solo al commerciale. Perché se io facevo lo stadio dove volevo farlo io, il commerciale è un cera. Quindi non voglio che la mia immagine sia eh ma Rocco vuole solo guadagnarci. No. Ovviamente se io devo aumentare l'introity, ovviamente mi interessa anche il commerciale. Se lo stadio lo fa io, tutti i biglietti, tutto quello che è, sono sordi mia. E non pago concessioni allo stadio. Quindi su questo, allora su questi argomenti, diciamo che io a Rocco non gli posso dar torto. Poi arriva la patata bollente. Ah beh, ovviamente ha parlato anche degli obiettivi, ora perché poi le cose mi vengono in mente, che si aspettava una stagione diversa, che io il prossimo anno non voglio lottare per la salvezza. Quindi attenzione, un primo obiettivo, non si vuole lottare per la salvezza. Quindi o lotti per la salvezza, o lotti per una posizione europea. Cioè questo è il campionato italiano, perché c'è arrivato a 40 punti, o è lottato per la salvezza, o è arrivato a 40 punti, da di molto tempo, e lotti per le posizioni europee. Quindi comunque Rocco ha detto non voglio lottare per la salvezza. Punto. Cioè il nostro obiettivo non è la salvezza. La salvezza del prossimo anno deve essere una roba matematica. Cioè una roba che c'è scritto la Fiorentina si salva, punto e basta, senza difficoltà. Ovviamente verrà fatta una squadra forte. Sulla dirigenza, anche su domanda di Prade, ha detto non mi esprimo. Ma io metto Prade, ci metto dentro Antonioni, ci metto dentro un po' tutti. Perché si è capito che Iachini lascia. E va bene. Ah, un'altra cosa su Iachini, ha detto che forse è lui che si assume la responsabilità, lui, di averlo mandato via solo dopo sette giornate di campionato. Date le pressioni dalla piazza, che volevano l'esonero di Iachini perché non si vedeva gioco. Probabilmente avrei avuto io più, avrei fatto meglio ad ascoltare me e non tanto le pressioni che arrivano dall'esterno. Quindi avrei dovuto ragionare non tanto di pancia, ma per quanto mi riguardasse me. No, perché poi la media punti di Iachini, effettivamente ragazzi, andiamo a vederla, fatevi voi i calcoli, io l'ho già fatti, non c'è paragone con Prandelli. Punto. Cioè, ragazzi, fate come vi pare, ma non c'è paragone con Prandelli. Cioè, io con tutto il bene che voglio da Prandelli, ma non c'è paragone. Detto questo, poi ha sparato, ha detto la sua sul giornalismo. Ha fatto tanti nomi, io onestamente non gli ripropongo i nomi, ok? Però ha preso di mira due giornali, uno fiorentino e l'altro rosa, insomma, facendo tantissime accuse, tant'è che è arrivata anche la risposta del giornale fiorentino, in cui, praticamente, Comisot ha un po' accusato il fatto che tutte queste voci, queste indiscrezioni, fondate sul nulla, siano dovute da persone che vengono comandate e quindi si scrive il pezzo a, 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 diciamo, non a favore, ma su disegnare una, una figura a livello pubblico fiorentino in negativo. E quindi Rocco ha detto, semplicemente, io non rispondo a queste due testate, finché non mi chiedano scusa. Perché quando sono state fatte delle illazioni su Sari, l'incontro alla Fiorentina, ha dimostrato che non era vero perché le persone che voi avevate detto di aver visto incontrare Sari erano da tutt'altro posto e ci sono le prove. Perché non avete chiesto scusa? Ora, io sul lato umano posso capire omisso dicendo, ok ragazzi, questo è un imprenditore che è arrivato a Firenze, ha ridetto nuovamente che della Valle, dell'Aurentis, Saputo, hanno preso le squadre a zero euro. A Fiorentina invece è costata 170 milioni, poi 80 di centro sportivo più altrettanti 100 sul mercato. Ha speso. Però giustamente dice, nessuno dice questo e a me comincia a darmi fastidio. Perché tutti dicono, Rocco non spende, Rocco qui, Rocco lì, invece Rocco ha speso. Ha speso male, l'ha messo anche lui, magari non l'ha speso bene, ma ovviamente consigliato anche male da una situazione, da delle idee sbagliate, poi cambiare tre allenatori non è mai facile per una squadra perché poi un calciatore può andar bene, un altro va male. Cioè, paradossalmente ragazzi, Mallirola, dato al Marsiglia, era tanto peggio di Malqui. Cioè, domandiamocene queste cose, no? Cioè, fa per dire, no? Siamo andati a dare via dei calciatori e poi abbiamo preso dei calciatori imbarazzanti perché Malqui, ma vabbè ragazzi, io so, non so veramente che è Malqui e Cocorin, vabbè, non pervenuto, infortunato, io lo riparagono all'affare Benal One, figuratevi voi, però, detto questo. Quindi ha detto, io mi sono un po' stancato di avere sempre critica, critica, critica e nessuno dice mai quello che in realtà sto facendo. Cioè, ho speso qui, stai mettendo denaro perché l'ho detto ragazzi, la risorsa principale della Fiorentina è la Mediacom. Io l'ho già detto e su questo io a Rocco non gli posso dar torto. Come si fa a dar torto a un presidente che è arrivato, ha speso 170 milioni per la Fiorentina, 80 milioni per il centro sportivo, altrettanti soldi per mantenere la squadra che comunque ha un monte in gaggi importante, hanno un fatturato di 70 milioni di euro di introiti, cioè, è convinto che ci sta rimettendo. Ora, sicuramente tanti voi mi direte se avesse scelto l'allenatore subito forte, se avesse subito investito nella squadra ora magari da due anni si faceva l'Europa alla Champions e i soldi arrivavano. Sì, tutto bello con i soldi degli altri. Con questo io non lo sto giustificando perché ha detto dicono che Rocco ha fatto promesse, promesse, promesse io non ne ho fatte, dice. Io ho detto che nel giro di totta anni riusciremo a lottare per i vertici. Ovviamente ci sono delle cose dietro che penalizzano la Fiorentina. Infatti un giornalista che ho avuto anche modo e piacere di parlare su Instagram gli ha fatto una domanda seria cioè sul free play finanziario che sembra che dal prossimo anno un ci sarà quindi che le squadre possano spendere ovviamente verranno fissati dei paletti che saranno uguali per tutti. Quindi prezzo del cartellino massimo tetto ingaggi massimo quindi come si è detto sì, questo può aiutare però bisogna vedere sempre gli introiti non è che è arrivato Rocco e dice ok, ora si può spendere borda, butto dentro e poi no, bisogna vedere anche gli introiti giustamente cioè, lo capisco. Ovviamente ragazzi io lo ripeto e chi ha seguito i podcast con la pagina con cui collaboro tutta viola io dissi nel mio primo podcast che secondo me questo era l'ultimo anno e la Fiorentina avrebbe sofferto per la salvezza ma vi dico perché secondo me tante scorie tanti coccilotti ci si portavano dietro dalla vecchia dirigenza con cui ripeto io non ho nulla contro però gli ultimi tre anni quattro anni a Firenze forse anche Cinco non si parlava più di calcio ma si parlava soltanto di presidente onorario presidente esecutivo il potere legislativo con parto tecnico e Rizzitelli Andersen per come è stato trattato Pasquale per come è stato trattato Pioli insomma potete dire quello che volete della Valle hanno sicuramente fatto tanto bene a Firenze l'hanno riportata in alto l'hanno fatta giocare in Champions in Europa quello che volete grandi campioni però gli ultimi anni hanno abbandonato i remi ma come è giusto ovviamente ha parlato anche del paragone con i della Valle loro sono stati 17 anni io sono solo due anni effettivamente due anni magari sai uno dice anche i della Valle hanno rischiato la retrocessione per ben tre volte è la realtà dei fatti in 17 anni diciamo che ho messo ha fatto due anni e ha rischiato due volte la retrocessione magari io gli auguro altri vent'anni di successi mi auguro ci auguro questo no? ha fatto 22 anni ho messo due di rischio e le retrocessioni il resto tutti in alto bam 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 ragazzi ovviamente speriamolo però ecco io ho visto più una conferenza stampa per togliersi dei sassolini personali umani perché questo è un presidente che ha la sua età ha un fatturato utile da 37 trimestri ragazzi ma è roba cioè io lavoro in un grande azienda e so cosa significa i fatturati e vi garantisco che non è per niente facile avere 37 fatturati di utile consecutivi tra l'altro è la terza squadra con diciamo una forza economica più importante rispetto alle altre squadre no? tutte queste cose servono per il prossimo anno parliamoci chiaro servono serviranno serve però un progetto serio io sono convinto che il commesso stia lavorando sotto traccia e credo anche che la battuta sulla vendita della Fiorentina perché dicono che io sono un immobiliare mette un mattone nella serie voglio costruire e poi la squadra allora giustamente dice io vendo 10 giorni la metto in vendita il primo fiorentino ricco che viene mi dice guarda ti do il 30% subito e il resto si mette sotto contratto io gliela do non si presenterà nessuno è un po' come fecero la battuta ai della valle vi ricorderete vediamo chi è lo scemo del villaggio che compra la Fiorentina e noi dopo qualche anno si dice ecco lo scemo del villaggio è arrivato Rocco Comisso ovviamente ripeto non è nessuna offesa ripeto un qualcosa è successo in passato quindi insomma lo cosiddetto zio d'America nonno d'America oggi si è tolto sassolini personali dalla scarpa che non hanno a che fare molto con il mondo calcio col calcio giocato con il pallone ma è più a livello aziendale organizzativo gestionale però ha dato degli indizi cioè tireremo le somme ho finito il campionato mi siederò parlerò con tutte e da lì avrete le risposte Firenze avrete le risposte mi aspettavo un po' più di calcio onestamente però da una parte posso anche capire che c'è da fine una stagione quindi lui ha fatto una conferenza stampa personale secondo me personale a livello di attacchi di critiche e tutto secondo me poi farà una conferenza stampa post crotone e parlerà di quelli che sono gli obiettivi Viola ringraziando ovviamente non parlerà dei calciatori che andranno via che rimarranno solamente parlerà dell'allenatore del direttore sportivo e di quello che si andrà a creare con una preparazione fatta a modo cioè a moena quindi un ritiro i ragazzi si trovano imparano i dettami di gioco e poi ci si affronta per la prossima stagione tra l'altro Rocco non sarà a moena però mai dire mai insomma le sorprese del nostro presidente non sono mai mai poche poi tra l'altro chiudo dicendo che Pallotta è stato intervistato non so se poi queste parole verranno smettite o meno però ha detto che ho riso tantissimo credo che sia una delle conferenze stampa più inusuali e divertenti a cui io abbia mai assistito nel calcio italiano vorrei dire al signor Pallotta di farsi gli affaracci suoi perché penso che poi ognuno deve guardare in casa propria e credo che Pallotta non venga ricordato molto bene diciamo dalla tifoseria romana la butto lì poi noi fiorentini siamo molto carnali noi vorremmo tutto e subito perché noi siamo stati abituati bene si è vinto poco ma si sono stati abituati bene e vedere una fiorentina che Firenze una delle sette sorelle insomma una squadra che dovrebbe lottare veramente per i vertici vedere squadre sopra di te ti fa girare un po' le balle e questo Rocco lo deve capire noi diamo tanto la tifoseria fiorentina dà tanto io sono stato in Fiesole sono stato in tribuna sono stato dappertutto allo stadio l'ho fatta in tutti i settori tranne tribuna d'onore non ci sono mai stato però l'ho fatta in tutti acqua sole grandine neve tutto e si dà tanto si dà tanto e si vorrebbe ricevere anche tanto noi non si prende sodo dalla fiorentina noi si figlia soddisfazione noi si figlia orgoglio noi si figlia amore noi si figlia l'essenza della preparazione di andare allo stadio con il gruppo di amici attifare un unico colore un'unica bandiera soffrire gioire e quello noi si prende dalla fiorentina però si dà perché per andare allo stadio ci vogliono sordi cioè capito quindi noi ora quest'anno no però anche Rocco ha detto speriamo che con il pubblico il prossimo anno possa migliorare anche sotto questo punto di vista insomma ragazzi questa è un po' la mia opinione mi aspetto i vostri commenti è un video che dura un pochino siamo quasi a 18 minuti oltrati però la chiudo qui ragazzi questa è la mia opinione vi aspetto in settimana parleremo della prepartita di Fiorentina-Napoli ovviamente ragazzi uscirà anche il secondo video new unboxing di Viola il giro per il mondo grazie alla collaborazione di amici di okacalcio.com Rocco ha parlato un fiume in piena questa è la mia opinione aspetto i vostri commenti e le vostre opinioni ciao e forza Viola e al prossimo video